Domani ricorre la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalla ONU. Il tema di quest'anno è «Con i rifugiati, noi stiamo dalla parte di chi è costretto a fuggire». I rifugiati sono persone come tutti, ma alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a rinnovare l'impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro, incontrarli, accoglierli, ascoltarli per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà di Dio.